In un'aula salviati gremita di ospiti e personalità illustri, dal ministro della salute Ferruccio Fazio al presidente del bambino Gesù Giuseppe Profiti, l'ospedale ha celebrato i 25 anni del riconoscimento come istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. A noi che siamo stati chiamati a ricoprire le cariche all'interno di questa struttura, la sfida, il peso, il valore che ci è stato tramandato è riuscire a rinnovarlo costantemente con attenzione, ovvero l'attenzione all'innovazione, l'impegno professionale e culturale verso l'eccellenza. Oltre alla grande attenzione alla ricerca e alla sanità, ha una particolare attenzione all'aspetto umano e quindi a quella che è la gestione di questi nostri piccoli concittadini. Un quarto di secolo durante il quale quotidianamente risorse e professionalità di calibro internazionale sono state convogliate nelle indagini scientifiche in campo biomedico, alla costante ricerca di cure e di una speranza di guarigione, ha ricordato il cardinal Tarcisio Bertone nel messaggio inviato per l'occasione alla ricerca di nuove soluzioni terapeutiche a problemi sanitari ancora senza risposte. Tanti i traguardi raggiunti dal bambino Gesù sul fronte della genetica delle malattie rare, dell'immunologia e dell'oncoematologia, sino alla medicina proiettiva individualizzata che oggi consente di identificare le condizioni che determineranno in futuro l'insorgenza di una malattia, simulando anche la reazione dell'organismo alle diverse soluzioni terapeutiche. Tutto il successo che c'è dietro questa operazione secondo me ha un senso molto specifico che si identifica nella squadra poderosa che questo ospedale ha saputo mettere insieme. È una squadra formata di medici, formata di infermieri, formata da tecnici, formata da ricercatori, un personale attentissimo ed è questo veramente il fulcro su cui si è mosso in questi anni la storia di questo ospedale. 25 anni di interazione continua di conoscenze dunque tra laboratorio e clinica per compiere significativi passi in avanti al servizio di chi soffre.